Oggi è un grande giorno, faremo un unboxing molto particolare insieme perché dentro c'è il nuovo metodo, la chitarra battente solista che ho scritto a quattro mani con Francesco Roccisano ed edito da fingerpicking.net che è disponibile per l'acquisto, quindi andiamo subito a spacchettare il tutto, questo pacco che aspettavo da giorni. Ecco qui, la prima scatola è andata, il nastro fingerpicking che vado a tagliare, quindi eccoli qui, quest'altra confezione, ed eccoli qui, ecco qui il nuovo metodo per chitarra battente solista scritta a quattro mani con Francesco Roccisano, sono emozionato nel tenerli in mano, davvero una grande emozione. Questo metodo in realtà si tratta di una raccolta di brani per chitarra battente solista con partiture e tablature video tutorial. Per acquistare il nuovo metodo trovi tutti i link in descrizione ed ovviamente potrai acquistarlo anche da Farfly Music Shop di Potenza, il mio negozio di strumenti musicali di fiducia. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, cosa abbiamo scritto in questo metodo. Anche per questa nuova pubblicazione abbiamo scelto come fotografo per la nostra copertina il maestro fotografo appunto Vito D'Andrea che ringraziamo ancora ed è in pratica la foto che ci sta rappresentando il duolo Cisano De Carolis che ci ha rappresentati anche all'Uomex e in questo caso è stata rivisitata per questa nuova pubblicazione. Aprire questa nuova pubblicazione per me è davvero una grande emozione, l'ottima immaginazione di Luca Francioso la rende davvero molto piacevole. E subito trovi il QR code e il link per accedere ai video di tutorial che abbiamo realizzato sempre con il maestro fotografo Vito D'Andrea. Presentiamo questa raccolta così, questo nuovo libro è un'ontologia che racchiude e racconta alcuni brani in cui la chitarra battente si cimenta in un nuovo aspetto solistico alla pari delle altre chitarre. Si tratta di storie che hanno a che fare con il meridione ma che allo stesso tempo si rivolgono al panorama internazionale. Infatti oltre ai brani Scilla di Francesco Luccisano, Antitodon Tarantule, La tarantella di Athanasius Kircher e Gerspar Sanz, Caos Calabro, Samuele, Il bacio di Francesco Luccisano e la tarantella lucana di mia composizione potrai trovare la storia dei brani. Ovviamente trattandosi di un metodo a scopo didattico non mandano le indicazioni tecniche musicali per poter eseguire al meglio tutti i brani. E vediamo quali sono i crediti quindi abbiamo le chitarre battenti che sono diciamo mie e di Francesco Luccisano, le riprese audio mix e mastering che abbiamo fatto qui e che abbiamo curato stesso io che è Francesco, la fotocopertina, le riprese video e il montaggio sono di Vito D'Andrea, le chitarre battenti sono state costruite da Sergio Pugliesi e revisione editing del testo, l'impaginazione grafica e di Luca Francioso. Ora una parte molto importante per me che è quella di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto per questa nuova pubblicazione, quindi Sergio Pugliesi della Luteria Oliver Guitar Lab di Scilla, Giuseppe Marasco di Terrizona, il Conservatorio Ciaikoschi di Catanzà, Vito D'Andrea, Danilo Gatto, Reno Brandoni e tutti i nostri amici e le nostre famiglie che ci sostengono da sempre. Ma a chi si rivolge questo metodo? Il metodo ovviamente è rivolto a coloro che già suonano la chitarra battente e vogliono cimentarsi nello studio di questi nuovi brani, potendone apprendere le tecniche e il linguaggio utilizzato. Ti ricordo però che ci sono altre due pubblicazioni didattiche che sono appunto la chitarra battente, metodo base scritto a quattro mani con Francesco Luccisano, rivolto a chi si approccia allo studio della musica e della chitarra battente per la prima volta e in descrizione ovviamente trovi il link per sapere di più ed acquistarlo e la chitarra battente scritta da Francesco Luccisano, la prima pubblicazione didattica per chitarra battenti con una serie di esercizi e brani per la chitarra battente. Ovviamente tutti questi metodi sono pubblicati da fingerpiggy.net quindi un grosso ringraziamento a Reno Brandoni che crede in questo strumento e ci sostiene nel nostro lavoro. Ma dove potrai acquistare il nuovo metodo, la chitarra battente solista? Lo potrai acquistare ovviamente in tutti i negozi di musica, negli stori online ed ovviamente anche da Farfly Audio Music Shop di Potenza o cliccando sul seguente link che ti rimanda, sul link che trovi in descrizione che ti rimanda da Amazon e che mi dà anche una, che mi aiuta a sostenere appunto il mio lavoro. E tu conosci la chitarra battente? Sei incuriosito da questo strumento? Fammi sapere cosa ne pensi nei commetti qui sotto. Per oggi ti saluto, se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità della chitarra battente del duo di chitarra battente Lo Cisano De Carlis, puoi seguire il mio sito www.marcellodecarlis.com, i miei social Facebook, Instagram e Spotify ed iscriverti qui al mio canale YouTube. E ancora puoi sostenere il mio lavoro con una donazione Paypal, troverai il link in descrizione o qui su YouTube con un super grazie. E infine ancora puoi abbonarti sempre al mio canale YouTube per poter ricevere alcuni vantaggi in esclusiva che ho riservato per te. Ciao!